www.feyyaz.tv Ma non romperlo adesso che ha vinto! Prima gara dell'anno e il risultato è stato primo. Complimenti a Michele Camarlinghi che vince la 43esima Verzegni-Sella-Chianzuttan. Michele, dici tutto tu, ascoltiamo il campione di questa gara. Beh, è una gara fantastica che mi ha dato una grandissima soddisfazione. Non avevo mai vinto l'assoluta qui, ho fatto vittorie di classe e di gruppo. Quindi sono stra-contento, è andato bene tutto fin dall'inizio. Mi sono divertito molto, che è la cosa poi alla fine più importante. Ringrazio tutti per far tanti ringraziamenti al team, ai fagioli, a tutti i ragazzi che mi supportano questa cosa. Grazie. 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 Grazie.